Nasce da un'idea di Giorgio Celli il nuovo allestimento permanente ospitato al piano terra del Museo di Scienze Naturali di Torino negli spazi espositivi della crociera, il cosiddetto 14esimo lotto. Il progetto, fortemente voluto dalla regione Piemonte per avvicinare il pubblico in modo innovativo alle scienze della natura, si snoda in tre macro aree attraversando nella prima sezione una moderna Wunderkammer per scoprire nella seconda i meccanismi che danno origine alla diversità della vita e infine esplorando le relazioni tra gli organismi viventi e l'ambiente nella foresta pluviale del Madagascar, campo di ricerca del museo. Un percorso che attraverso rari reperti museali, exhibit interattivi e multimediali, ricostruzioni scenografiche di ambienti e un tocco d'arte fornisce le chiavi per comprendere il mondo naturale, raccontando al tempo stesso il lavoro del Museo di Dialogo con la Comunità. Un progetto iniziato nel 2007 che vedrà il suo compimento nella seconda metà del 2012. In realtà è un progetto che è nato qualche anno fa, un progetto del 2006 che prende vita e corpo qualche anno dopo. Siamo tutti in attesa dopo l'illustrazione di oggi di poterlo inaugurare dal vivo. Che il Museo regionale di Scienze Naturali in questi ultimi due anni fosse davvero al centro dell'attenzione e dell'offerta culturale era un dato di fatto. I numeri lo hanno dimostrato, i risultati lo hanno dimostrato. Sia per quello che attiene la propria identità e quindi le mostre legate alla sua dimensione, all'approfondimento scientifico, mostre portate in giro anche per il Piemonte o anche grazie ad altre iniziative e altre attività che esulano dal carattere scientifico del museo. È ancora in corso la mostra su Steve Jobs che ha già raggiunto 50.000 visitatori per dare soltanto un esempio. Questo allestimento permanente è una sfida a tutti gli effetti a 360 gradi, non soltanto un modo nuovo di riempire una sala ma un modo nuovo per avvicinare, innovativo, per avvicinare alle scienze della natura. E credo che sia davvero stupefacente, un lavoro incredibile. Saremo orgogliosi di avere in Piemonte un museo di scienze naturali così all'avanguardia.